Lunedì scorso il Presidente ha ordinato ai commessi di rimuovere le piccole bandiere che i rappresentanti del mio gruppo avevano sul loro tavolo. Ritengo questa decisione una decisione contraria alle regole. Sappiamo che il Presidente del Parlamento ha deciso di imporre un divieto sui banner per evitare proteste con cartelli che venivano fatte in aula e per mantenere l'ordine. Ci risulta abbastanza ambiguo il fatto che si proibisca l'esposizione di piccoli simboli delle nostre bandiere nazionali. Quindi vorrei capire secondo quale regola queste bandiere sono state rimosse e ribadire che il mio gruppo orgogliosamente continuerà a portare queste bandiere in aula. Grazie. Grazie. Si fa riferimento all'articolo 10. Regolamento. Passo al tedesco soltanto perché ho la versione tedesca e i deputati devono avere una condotta dignitosa, non disturbare i lavori, non si possono esporre striscioni e ne parleremo anche alla prossima sessione. Per il momento vi chiedo di tenervi alla disposizione del Presidente. Non sono striscioni e non sono simboli che disturbano l'ordine della plenaria. Quindi quell'articolo del regolamento non può essere applicato a questi simboli. Grazie. 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 Grazie.